E ancora per il nostro percorso elettrico, questa volta Maria Ornandi ci farà ascoltare qualche cosa che arriva dallo stile di un chitarrista che ha lasciato davvero anche lui il segno nel mondo del jazz. Si tratta di Giopass, al secolo Giovanni Passalacqua, perché meno male era un chitarrista di origine italiana che con il suo modo di suonare a tutta chitarra si potrebbe dire e quindi utilizzando le tecniche più diverse, il finger picking, le dita, è veramente stato un chitarrista che ha dato degli impulsi molto molto importanti al chitarrismo e al linguaggio del jazz inteso proprio come linguaggio che assorbe dallo strumento chitarra anche quello che la chitarra può restituire in quanto strumento polifonico a tutti gli effetti. Maria Ornandi ci farà ascoltare questo brano che è Blues for Basie in una edizione fingerstyle, quindi per chitarra sola. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.